Ti aspettavi tanti ragazzini tutti impazziti per te e per gli altri giocatori della Lazio? Certo, è bello trovare ragazzi piccoli così felici di vedere a noi, per noi siamo contenti che siamo venuti qua perché i ragazzi sono tutti bravi, per noi è bello vedere che possiamo fare felici un attimo anche ragazzi piccoli. Questa può essere anche un motivo in più, una carica per poi affrontare un finale di campionato così importante come quello della Lazio? Certo, così anche noi vediamo che veramente la gente, i ragazzini, la gente grande ci crede a noi, ci crede che possiamo arrivare all'obiettivo nostro, certo quello importante che abbiamo dietro la gente penso che è una cosa di più importante. Nella Repubblica Ceca esistono eventi del genere? Forse esistono ma non sono così, diciamo così, come dire, non c'è così tanta gente, non è così, non so come dire, però diciamo non è così, non è così, non si vive così con calcio quindi è difficile trovare un evento come per esempio come stamattina che dico per noi è bellissimo. Tu sei molto giovane e magari non molto tempo fa ti può essere capitato di aver incontrato un calciatore in una scuola quando tu eri uno studente? Certo, certo, questo mi è successo anche quando piccolo ho incontrato una persona, diciamo un calciatore più grande che giocava anche in Serie A nel nostro paese, in me già così era un momento bellissimo quindi io credo che siamo noi per questi ragazzi e dico per noi e spero anche bellissimo che così credono in noi e tutto quello. Ehm, por salati.